La vostra attenzione sui sistemi di sicurezza di questo aeromobile. Questi sistemi possono differire da quelli di altri aeromobili sui quali avete viaggiato in precedenza. Vi invitiamo a rimuovere cuffie ed auricolari durante l'illustrazione di sicurezza. Tutte le uscite di emergenza sono indicate da un segnale rosso EXIT ed un settiero luminoso lungo il pavimento si illuminerà in campo di emergenza per indicarvi l'uscita più vicina. Le uscite sono localizzate su entrambi i lati dell'aeromobile, nella parte anteriore, centrale e posteriore della camina. Tutte le uscite sono anche raffigurate sull'apposito foglio illustrativo. L'uscita di emergenza più vicina potrebbe essere localizzata anche dietro di voi. In caso di evacuazione di emergenza è obbligatorio lasciare i vostri bagagli a bordo. Per allacciare la cintura di sicurezza inserite la parte metallica nella fibia e tirate le estremità per regolarla. Per slacciarla sollevate la parte superiore della fibia. In caso di perdita di pressione in camina le maschere per l'ossigeno cadono automaticamente dagli appositi scomparti collocati sopra di voi. Rimate seduti e tirate con forza la maschera per avviare il flusso di ossigeno. Collocate la maschera sul naso e bocca, fissatela con l'elastico e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si bomba, l'ossigeno fuoriesce comunque. Assicuratevi di indossare la vostra maschera prima di evitare gli altri. Gli giubbotti di sapataccio sono situati in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra la vostra testa. In caso di necessità estraete il vostro giubbotto e indossatelo dall'alto. Portate la cinta intorno alla vita, annacciatela e regolatela. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la maniglia rossa. È presente un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il giubbotto e una luce per attirare l'attenzione. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non sarete fuori dall'aeromobile. Prima del decollo vi invitiamo a prendere visione delle schede di sicurezza disponibili nelle aree in cui siete seduti, poiché contengono importanti informazioni sulla sicurezza, specifiche per questo aeromobile. È fondamentale che le istruzioni e i segnali forniti dall'equipaggio vengano seguiti. Vi ricordiamo che a bordo è ovunque evitato fumare. I bagagli a mano devono essere posizionati in sicurezza nelle cappelliere o sotto sedite di fronte a muri senza bloccare il corridoio e le uscite. Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata, il tavolo in riposto, il bracciolo abbassato e gli oscuranti di finestrini aperti. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di mantenere sempre la cintura allacciata. Dispositivi elettronici come tablets e cellulari potranno essere utilizzati in modalità aereo per tutta la durata del volo. Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi o di riporli in tasca. Se i vostri dispositivi e le loro batterie sono danneggiate, sono riscaldate e mettono fumo o dovessero essere smarrite o cadere nella struttura del sedile, informate immediatamente gli assistenti di volo. Dispositivi più grandi, inclusi i computer portatili, devono essere svinti e posizionati nel bagaglio a mano nelle fasi di decollo e atterraggio. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un piacevole volo. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'altra attenzione. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'altra attenzione. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'altra attenzione. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'altra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.